Buonasera, sono allo stand di Tecnoeca, sempre a Diba 2015, sono in compagnia della signora Michela Carrer, Ex-Store Manager dell'azienda. Signora Carrer, buonasera. Buonasera a lei. Signora Carrer, la produzione di Tecnoeca, cosa avete presentato a Diba? A Diba abbiamo presentato per la prima volta al mercato tedesco una gamma di forni abbastanza completa. Parliamo di forni per la pasticceria e la panificazione, che includono una gamma che copre il segmento del piccolo snack coffee shop fino al negozio e al panificio più professionali. Abbiamo una gamma che va dai piccoli forni snack 3-4 teglie ai grandi forni 16 teglie con carrello. Tecnoeca oggi sta immettendo sul mercato circa 18.000 forni, quindi è un player importante, che però si sta presentando per la prima volta a Diba nel mercato tedesco. Anche se stiamo avendo molte soddisfazioni sia dal mercato tedesco che da quello internazionale. Di dove è Tecnoeca? Di Padova. Noi siamo di Padova. La famiglia Lora conduce l'azienda ormai dal 1978. Quindi un'azienda con svariati decenni alle spalle. Sì, un'azienda strutturata che sta investendo moltissimo sul mercato per offrire un prodotto sempre più affidabile e sempre più performante. Avete in previsione altre manifestazioni fieristiche dopo Diba? Sì, sicuramente saremo presenti a Host, saremo presenti a Cigep, a NRA, a Chicago, Gulfood e poi a Singapore. Allora direi arrivederci ad Host a Milano. Certo, ci vediamo lì. Grazie, buonasera. Grazie a lei.